Ciao, sono Daniele, per la mia laurea magistrale ho scelto scienza della politica e dei processi decisionali. Sono Camilla, strategia della comunicazione ha significato molto per me. Ciao, sono Francesca. E io sono Alberto. Entrambi facciamo la magistrale relazioni internazionali e studi europei. Solo che io la faccio interamente in inglese. Io sono Costanza, studentessa di sociologia e ricerca sociale. Ciao, sono Sara e sono iscritta al corso di laurea magistrale in disegno e gestione degli interventi sociali. Un corso di laurea magistrale che offre l'opportunità allo studente di sviluppare la capacità di analisi e di valutazione delle politiche pubbliche. Materie come giornalismo, sociologia della comunicazione e analisi del linguaggio politico mi hanno aiutato nella mia esperienza di tirocinio. L'inglese mi ha permesso di frequentare un semestre all'estero in Corea del Sud. Anch'io ho avuto l'opportunità di viaggiare e infatti ho fatto un tirocinio in Inghilterra. Vi consiglio la mia magistrale perché grazie a questa ho appreso un modo tramite il quale studi i fenomeni e le dinamiche sociali. Perché questa scelta? Ho sempre avuto una spinta verso gli altri e verso i ideali di giustizia e benessere. Verso una società basata sul rispetto altrui e sulla solidarietà. Forma degli studenti che hanno gli strumenti necessari per analizzare i processi di policy making. Mi sono occupata della revisione e del monitoraggio dei siti internet dell'Università di Firenze e ho anche preso parte alla campagna di comunicazione istituzionale del 5x1000 del nostro Ateneo. Veder le strategie comunicative di un'importante istituzione come la nostra Università è stata sicuramente una delle esperienze più belle. Anche qui in Italia i corsi sono molto interessanti per via dei numerosi esperti che intervengono a lezione. Giusto, come esponenti di organizzazioni importanti come Amnesty International, la Commissione dei Diritti Umani, la Banca Centrale Europea. Potrete scegliere tra due curriculum, uno più attento al sviluppo locale, l'altro ai processi di globalizzazione. Se vi piace la sociologia e fare ricerca, questo è il corte che fa per noi. Il tirocino è stato l'esperienza per eccellenza, dove ti metti alla prova, dove fai tanta pratica ed impari davvero quello che è la professione. Il tirocino è stato l'esperienza per eccellenza, dove ti metti alla prossima.